Come vi dicevo in apertura di servizio in provincia di Ferrara per dare una risposta agli agricoltori preoccupati nella gestione della difesa d'amaculatura a seguito del ridotto numero di ditti o carbamati è partita un'attività di supporto alla gestione tecnica. Clelia, tu sei stata direttamente coinvolta in questa attività, che cosa è stato fatto e con quale obiettivo? L'obiettivo era quello di dimostrare che è possibile gestire la difesa d'amaculatura bruna anche con un limitato numero di ditti o carbamati a disposizione. Finché c'è stata la possibilità di impiegare liberamente i ditti o carbamati nella maggior parte delle aziende agricole, la lotta a amaculatura era sostanzialmente una lotta a calendario, con turni a 5-6 giorni, indipendentemente da tutti gli altri fattori. In particolar modo spesso si seguivano le piogge o le irrigazioni trattando quasi come se si trattasse contro ticchiolatura. Le limitazioni del TNTD hanno costretto a rivedere il modo di operare e hanno costretto gli operatori a lavorare in modo diverso. Quindi in queste 5 aziende che possiamo definire dimostrative che cosa è stato fatto? In queste aziende abbiamo gestito la difesa d'amaculatura utilizzando tutti i prodotti inseriti nel disciplinare nel 2013. E' chiaramente supportato dalle indicazioni dei modelli previsionali relativi all'amaculatura che vengono sempre elaborati utilizzando i dati prelevati dalle 13 cappannine che sono presenti appunto nell'area provinciale. E poi la lettura dei vetrini delle spore, proprio attraverso il monitoraggio con il captospore, tre volte a settimana praticamente, per avere un'idea del volo e quindi anche della gravità o meno della situazione. La lettura di questi vetrini per che periodo è stata fatta? La lettura dei vetrini l'abbiamo fatta da inizio rischio maculatura che viene considerato normalmente dal periodo della fioritura del pero fino praticamente al periodo della raccolta. E queste informazioni servivano per gestire la difesa? Sì, io davo ai colleghi del coordinamento di produzione integrata della provincia di Ferrara i dati relativi alla gravità dell'infezione e il numero di spore di maculatura presenti. E loro li trasferivano alle aziende per decidere se e con quali prodotti effettuare il trattamento. E noi oggi ci troviamo in una di queste cinque aziende? Sì, adesso siamo nell'azienda di Mario Visentini a Volano. È un'azienda in cui sono presenti circa 110 ettari a frutteto e di cui 60 a pero. E di questi 60, 32 sono condotti con le tecniche biologiche e 28 circa con le tecniche integrate. La prova è stata fatta quest'anno circa su un ettaro e mezzo di abate e ci siamo confrontati con il tecnico che segue questa azienda che è Balestra Limber e il numero di interventi che è stato fatto in questa zona seguendo le indicazioni da modello previsionale è stato ridotto rispetto al resto dell'azienda e questo grazie soprattutto a un allungamento del turno che si è potuto fare quando le indicazioni da modello, che tra l'altro pervengono da dei dati di una cappannina che è proprio presente in questa azienda, dicevano che non c'era rischio. Anche qui ho un captaspore e quindi anche il volo delle spore è stato monitorato e questo ci ha permesso con una certa tranquillità di gestire questo tipo di informazioni. Quanti interventi sono stati fatti? Sono stati fatti 16 interventi dalla fioritura fino al periodo dopo ferragosto. Avete già fatto i campionamenti sui frutti per vedere i danni? Abbiamo fatto un controllo e fino ad oggi non abbiamo rilevato danno, non abbiamo rilevato danno né nella parte diciamo in cui abbiamo operato secondo modello, ma neanche nella parte in cui è stata gestita la difesa secondo gli schemi tradizionali. A questo punto andiamo a sentire altre due esperienze. Luca Chiericatti, tecnico dell'OP Diamantina e a seguire Michele Gerin, direttore di un'azienda del gruppo Mazzoni.